Un vero e proprio viaggio nella memoria da vivere nel castello di Barletta per non dimenticare gli orrori del passato. E' il progetto culturale che prevede il coinvolgimento degli spettatori attraverso performance teatrali, mostre e videodocumentari per far conoscere a tutti da vicino il dramma dell'olocausto e delle foibe. Così dal 23 gennaio al 6 febbraio con binario 21 nella piazza d'armi del castello si potrà salire su di una carrozza di un treno merci assistendo ad una rappresentazione teatrale per comprendere il significato della partenza dei deportati con destinazione i campi di sterminio nazisti. Mentre dal 9 al 18 febbraio l'iniziativa proseguirà con il treno della vergogna dedicata al giorno delle foibe uno dei momenti più tragici della seconda guerra mondiale. Il progetto culturale è stato presentato nel corso di una conferenza stampa svoltasi nel castello per un viaggio nella memoria pensato nell'ottica di smuovere le coscienze a partire dalle nuove generazioni. Quest'anno siamo riusciti a riunire in un unico percorso culturale due eventi dedicati alla memoria quello per la giornata della memoria che è il 27 gennaio e quello dedicato invece al giorno del ricordo che è il 10 febbraio appunto istituito dal governo per ricordarsi delle vittime delle foibe. Quindi abbiamo creato un unico viaggio nella memoria distinguendo due eventi il binario 21 dal 23 gennaio al 6 febbraio e il treno della vergogna dal 9 al 18 febbraio. Siamo rimasti qui ingabbiati. Gli spettatori non soltanto saranno guidati in una mostra fotografica e assisteranno alla proiezione di un concerto che si è realizzato proprio all'interno del campo di concentramento di Auschwitz dopo il suo abbandono. Ma la caratteristica e la particolarità è che parteciperanno attivamente alla performance teatrale nei momenti in cui verranno guidati sul vagone merci, sulla ricostruzione di un vagone merci e assisteranno alla performance teatrale che racconta la partenza della senatrice Liliana Segre e di suo padre. Ad ospitare i progetti culturali del viaggio nella memoria Barletta proprio la città che ha riconosciuto la cittadinanza onoraria Liliana Segre senatrice a vita sopravvissuta ad Auschwitz. Il caso vuole che il binario 21, il progetto dedicato al binario 21 si rifà proprio alla storia di Liliana Segre che è diventata tra l'altro anche cittadina di onore della nostra città.